Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 20 del corso di Java, quest'oggi vediamo cosa sono i metodi o funzioni, ok, li chiamiamo metodi per un motivo particolare, ma in realtà metodi è la stessa cosa di funzioni, perciò se state cercando di capire cosa sono le funzioni, vi trovate i metodi, siete comunque nel posto giusto, non preoccupatevi a volte magari non avendo l'esperienza, qualcuno sente una parola leggermente diversa, non sa che sono quasi sinonimi e quindi non sa se ha trovato il video giusto o la documentazione corretta, ok, quindi cosa sono i metodi? Allora innanzitutto perché li chiamo metodi e funzioni? Di base i metodi sono funzioni, ok, quindi sono dei blocchi di codice, come abbiamo visto per if for etc, che ci permettono di scrivere del codice e richiamarlo ogni santa volta che dobbiamo fare qualcosa, ok, quindi pensate, vi faccio una metafora, pensate quando dovete fare la pasta, ok, quando dovete preparare la pasta per mangiare avete una lista di cose che è andata a fare ogni volta, va bene? quindi dovete tirare fuori la pentola, dovete metterci dentro l'acqua, dovete aspettare che l'acqua sia a temperatura, metterci dentro la pasta, preparare a parte il sugo, aspettare che tutto sia pronto, impiattare e siete a posto, ok? se noi dovessimo fare la stessa cosa nel codice, lo scrivi in pseudocodice, avremmo una cosa del genere, prendi pentola, metti acqua, metti sale, mettere acqua, pasta, preparare sugo e via discorrendo, avete capito il giro del fumo nel nostro programma magari noi la pasta la andremo a eseguire più volte, quindi vuol dire che noi ogni volta che andiamo ad eseguire la pasta dobbiamo riscrivere tutte queste righe di codice, vedete quante sono? ok, sono un po' di righe di codice, qual è il fatto che le funzioni o metodi ci permettono in questo caso di, sempre il pseudocodice ve lo scrivo, funzione fai pasta ci permette di creare una cosa del genere, ovvero così, quindi noi ogni volta che dobbiamo andare a fare la pasta possiamo semplicemente sostituire tutto quello che abbiamo scritto con fai pasta la vuoi fare 5 volte? facciamo così, il programma sa che fai pasta è una funzione, ovvero è un insieme di istruzioni di codice, perciò ok, fai pasta, cos'è che devo fare? prendi pentola, ok, quindi questo è lo scopo delle funzioni, andare a ridurre il codice riutilizzando una porzione, che tanto sarà sempre uguale, a volte cambierà in certi aspetti ma lo vedremo più avanti in questo video quindi avremo una cosa sostanzialmente del genere, queste si chiamano funzioni, perché li chiamiamo metodi a questo giro? perché javascript, scusatemi, perché java è un linguaggio orientato agli oggetti e lo vedremo più avanti nei prossimi video, quindi ogni cosa che facciamo è in classi, lo vedete che abbiamo qua le classi nella programmazione le funzioni appartenenti alle classi, ok, quindi sono funzioni che scriviamo qua dentro, vedete qui abbiamo le parentesi graffe della classe ogni funzione che scriviamo dentro una classe è un metodo, va bene? punto, ci arriveremo meglio quando arriveremo alla programmazione ad oggetti effettiva in java al momento sì, stiamo già programmando ad oggetti ma non ve lo sto spiegando, cioè lo dobbiamo fare per forza perché sennò java non funziona in un altro modo però ve lo spiegherò tra qualche video, quindi in realtà metodi sono sinonimo di funzioni praticamente, poi vi spiegherò meglio quella differenza teorica che c'è però veramente a livello pratico non c'è differenza, quindi sappiamo cosa sono i metodi, andiamo a crearne uno semplicemente per crearne uno ci basta fare il tipo, in questo caso scriviamo void, cioè dobbiamo sempre mettere i tipi di dati in java se ci avete fatto caso, ok? in questo caso usiamo void e ve lo spiego tra pochissimo praticamente, quindi per ora prendetelo così com'è void e scriviamo fai pasta, ok? una cosa del genere e dentro andiamo ad aprire le nostre parentesi graffe e noi cosa facciamo? semplicemente mandiamo a schermo che stiamo facendo la pasta, giusto una banalata e scriviamo sto cucinando pasta, ok? faccio una cosa del genere, per chiamare questa funzione ci basta andare qua dentro nel nostro main e andare a fare fai pasta facciamo così, ci darà un problema, ovvero che non possiamo chiamare in un contesto statico come questo una funzione senza static quindi dobbiamo andare a mettere static, non preoccupatevi di sta cosa, per il fatto che siamo qua in main dobbiamo far così quando poi andremo a lavorare in altri file non preoccupatevi che non la useremo sempre questo static quindi che cosa abbiamo fatto? lasciate un attimo perdere static che non ve l'ho spiegato void è legato al valore di ritorno, questa funzione non ritorna nessun valore e tra letteralmente due minuti capirete cosa vuol dire il ritorno, quando vediamo il return capirete cosa vuol dire il ritorno del valore quindi static non ci interessa a sto giro void vuol dire che è una funzione che fa semplicemente proprio delle cose e non ritorna dei valori quindi cosa facciamo? abbiamo il nome, abbiamo le parentesi in cui possiamo mettere dei parametri abbiamo le nostre graffe che indicano il blocco di codice e dentro quello che noi vogliamo andare a fare punto, quindi quando io vado a chiamare fai pasta, faccio vedere, sto cucinando pasta lo vogliamo duplicare? nessun problema, vi faccio vedere come il metodo viene richiamato ogni volta che noi vogliamo quindi adesso troveremo 4 sto cucinando pasta va bene? quindi ecco il nostro primo metodo che abbiamo creato void, ovvero non ritorna niente andiamo avanti e vediamo cosa sono i parametri dei metodi io potrei fare una cosa un po' più generica come cucina, pranzo, no? sto cucinando ma noi non sappiamo cosa sto cucinando al momento perché io la sto scrivendo adesso ma ogni pranzo è diverso cioè io potrei fare cucina pasta, cucina ta 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 eccetera però esempio al momento mi torna utile così perciò io metto genericamente cibo e come ottengo questo cibo? dal parametro, che cos'è questa cosa qua? io sto dicendo la funzione ehi, il pranzo che vado a cucinare è dinamico non sarà sempre pasta come ho fatto prima ma sarà dinamico, ovvero ogni giorno andrò a cambiare ma io lo scopro fondamentalmente il giorno stesso cosa andrò a cucinare quindi quando poi io vado a cucinare dirò al mio cervello ok, adesso cucina qualcosa, va bene? quindi io sto chiamando la funzione cucina pranzo ok, nel momento in cui voglio prepararmi da mangiare e in quel momento io dico al mio cervello cosa voglio fare quindi sto passando un parametro a sto giro io voglio cucinare carne, va bene? ora, questo parametro dobbiamo sempre indicare di che tipo è a sto giro è string perché vedete che io ho scritto carne come stringa quindi sto dicendo al mio cervello ehi, io ogni giorno mi cucinerò un pranzo sceglierò al momento cosa voglio cucinare a questo giro, chiaramente per Java è una stringa, ok? e il cibo appunto risulta come stringa e io glielo passerò come tale questo cibo, quindi poi il mio cervello entra e fa ok, cucina pranzo, che cosa vuoi? carne, va bene quindi noi manderemo a schermo se qualcuno dice che cosa stai facendo? sto cucinando carne, ok? perché ogni giorno cambia non è che noi abbiamo sempre sto cucinando pasta e noi stiamo facendo cosa stai cucinando? se noi non avessimo questo parametro uno ci crede cosa stai facendo? sto cucinando pasta perché è l'unica risposta che sappiamo dare in base a quello che ho scritto prima così invece col parametro della funzione noi possiamo dire guarda, io ogni giorno cambio quello che voglio fare lo dico, ce l'ho qui e quando qualcuno mi chiede cosa stai facendo sto cucinando il cibo che ho scelto quindi se io mando a schermo adesso abbiamo sto cucinando carne va bene? facciamo un esempio un po' più pratico possiamo fare addizione facciamo un'addizione e accettiamo due numeri, ok? accettiamo due interi int a virgola int b quindi è semplicemente fare una piccola funzioncina andiamo qua togliamo magari questo al momento che non ci serve e noi vogliamo come risultato facciamo int risultato di questa addizione è uguale a a più b, ok? quindi stiamo portando due parametri cominciamo qua a sostituire il tutto togliamo qua questo e noi mandiamo a schermo il risultato come potete vedere ci dà errore perché dobbiamo inserire i parametri è obbligatorio inserire i parametri non possiamo, è arbitrariamente no, non c'ho voglia di farlo dobbiamo inserire dei parametri altrimenti la funzione ci darà errori in questo caso voglio fare due virgola tre ok? due virgola tre non è due più tre perché del più se ne occupa la nostra addizione quindi se io faccio così otteniamo cinque, ok? voglio cento due così da fare cento cinque nessun problema bam! e potete avere quanti parametri volete potete anche non richiamarli qua dentro vi faccio vedere potete avere anche int x non lo richiamo semplicemente lo metto come parametro faccio ok ma non lo utilizzerò mai non è un problema se non lo utilizzate potete avere quanti parametri volete e questo è il concetto di parametri ma che cosa sono i parametri? i parametri sono dei dati in entrata quindi sono dei dati che noi passiamo ogni volta alla funzione che vogliamo passare alla funzione pensate alla calcolatrice la calcolatrice può fare l'addizione in qualsiasi momento ma se noi non gli inseriamo gli addendi quindi se noi diciamo io voglio questo numero più questo numero lui non ha dei parametri appunto in entrata quindi non sa cosa farsene ok? perfetto ora abbiamo detto che possiamo sia mandarla a schermo così oppure vorremmo tenerci in pancia questa addizione ok? quindi creiamo una variabile che magari è int totale speso va bene? totale speso ci serve nel resto del nostro programma un attimo come playsolder metto 100 ci serve nel nostro programma quindi noi vorremmo che totale speso fosse uguale alla somma che abbiamo qua giusto? nessun problema quindi io potrei fare qua torniamo a 2 come parametri e giustamente uno potrebbe dirmi è assensissimo veramente tanto senso beh io faccio che totale speso è uguale ad addizione è uguale ad addizione di 102 e 3 va bene? ha senso anche se ci dà errore e vi spiego perché ma la cosa fondamentalmente ha senso perché io voglio che il totale speso io me lo segno in testa che il risultato di questa addizione è ciò che io ho speso in totale perfetto qual è il fatto? perché ci dà errore? ci dà errore perché noi qua abbiamo un int totale speso è un intero ma se voi vedete questo void questo void vuol dire vuoto vuol dire che questa funzione non ritorna a niente è una funzione che esegue qualcosa lo vedete ma non ritorna al resto del programma un dato un valore ok? cioè l'addizione viene eseguita noi poi la mandiamo a schermo tramite print line ma non esce di qui il valore cioè una volta che noi abbiamo finito e siamo arrivati qua a questa parentesi graffa il dato si perde un po' come se noi avessimo la calcolatrice mettiamo 2 più 3 lei fa il calcolo ma non ce lo manda a schermo la calcolatrice sa che fa 5 eh fa 5 ho capito me la mandi a schermo o no? eh però no io mi spiace ok 2 più 3 5 la voglio vedere a schermo quindi in questo caso il nostro programma non può utilizzare se non tramite ciò che abbiamo qua dentro quindi dobbiamo per forza mettere un println in questo caso ma fuori da questa funzione noi non possiamo riutilizzare questo valore come facciamo a riutilizzarlo? abbiamo bisogno del return ovvero ritorno vuol dire che noi prendiamo dentro qualcosa in questo caso con i parametri e buttiamo fuori qualcos'altro vi faccio vedere improvvisamente abbiamo int qua sto dicendo che mi torna un intero e un'altra cosa che faccio è return e improvvisamente io mando a schermo risultato quindi io faccio così posso togliere questo che a sto giro non mi interessa e cosa facciamo? adesso abbiamo adesso abbiamo il risultato di addizione disponibile nel nostro void main perché abbiamo un ritorno quindi adesso si che stiamo dicendo che il totale speso è uguale ad addizione perché entrano questi due parametri 102 e 3 entrano qua dentro vengono sommati abbiamo un risultato e diciamo ok adesso questo risultato deve uscire dalla funzione la gente deve poterlo vedere e deve poterlo salvare da qualche parte e riutilizzarlo quindi se io poi adesso vado a fare system.out.println e io ve lo mando a schermo abbiamo totale speso io faccio punto e virgola guardate un po' e assolutamente abbiamo 105 quindi questi sono i metodi e sono le basi dei metodi abbiamo visto cosa sono i metodi che di base sono delle funzioni riutilizzabili ok perché addizione la possiamo usare all'infinito vogliamo fare anche int prova uguale addizione facciamo così e mettiamo semplicemente 23 più 34 possiamo farlo senza alcun problema andiamo a copiare questo e mettiamo qua sotto prova e io vi dimostro come la nostra funzione il nostro metodo è riutilizzabile con parametri diversi in situazioni totalmente diverse ma va a fare sempre la stessa cosa quindi abbiamo una porzione di codice sempre uguale che però accetta in questo caso grazie ai parametri dei dati diversi in entrata quindi in base alle casistiche ma quello che ci ributta fuori è sempre il risultato che noi grazie al return e al fatto che abbiamo specificato un tipo di dato in uscita possiamo salvarlo chiaramente deve essere int e int altrimenti c'è un problema se io scrivo bool ok vedete che ci dà degli errori quindi deve essere chiaramente stesso tipo di dato noi lo salviamo e poi lo mandiamo a schermo in base a quello che ci serve quindi la funzione è questa cosa incredibile che ogni volta va a ricalcolare in base alle nostre necessità la scriviamo una volta e se la scriviamo bene ci aiuta in tantissime situazioni differenti ok abbiamo visto il return quindi ci permette di ritornare quello che è appunto il risultato di questa funzione e basta direi che per oggi siamo a posto così io vi ringrazio per essere rimasti con me spero che la spiegazione sia stata bella chiara e incisiva nelle vostre menti noi ci vediamo nel prossimo video sotto in descrizione trovate tutto quello che serve per supportare il canale se ci tenete particolarmente e entrare nella community un abbraccio e alla prossima ciao ciao ciao